. Domate le fiamme a Missilmeri e Belmonte, minacciavano case e hotel. I Silmeri e Belmonte M. le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni e l'albergo Miravalle, ma fortunatamente non è stato necessario evacuare. Roghi anche nella zona di Contrada Camminita, fra Portella di Mare e Missilmeri, e a Carini, sia nella parte alta che in quella bassa del paese. Squadre dei Vigili del Fuoco sono in azione per domare i roghi di Sterpagli e.Vasto incendio nel Palermitano. Il fuoco stava minacciando alcune abitazioni e un hotel tra Missilmeri e Belmonte Mezzagno. A lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco, mentre una squadra della Forestale ha cercato di fronteggiare il fuoco tra le Sterpaglie nella zona di Montagna Grande. Minacciate dal fuoco anche diverse villette nelle contrade Valle Barone e Segretaria. Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. Iscriviti al nostro canale. Ciao!